E continuiamo dunque la nostra chiacchierata con Paolo Nizzolo che è poi lo zio della campione italiano a categoria professionista e ovviamente con Graziano Faccio che sostiene questa iniziativa. Recentemente c'è stato un incontro nella sede centrale e lo chiediamo proprio a Paolo Nizzolo. Cosa è avvenuto? Premesso che avevamo già parlato con questi signori in un'intervista con Legallo nel momento in cui veniva realizzato il club coinvolgendo anche gli sportivi bergamaschi. E niente noi eravamo già d'accordo con lui abbiamo fatto l'anno scorso a cena al ristorante da Jimbo il fan club di cui lui ha organizzato i vecchi ricordi diciamo il ristorante vecchi ricordi e ha organizzato questa bellissima cena e ha formato il fan club della Val Seriana. Questo è qui a questo punto quando ci siamo trovati la settimana scorsa si è spinto oltre perché lui vuole di più vuol fare di più il signor Faccio Graziano dalla GeoAden e quindi abbiamo detto sì perché no proviamo. Certo allora sentiamo cosa vuol fare di più Graziano Faccio mentre sul teleschermo scordano le immagini appunto nella serata che ha avuto luogo recentemente con il campione italiano. Allora Graziano. Beh la mia partecipazione lunedì di 15 giorni fa è stata quasi provocatoria e quando mi hanno detto quanti associati vorrei fare timidamente ho detto una cinquantina ma ho pensato che organizzandoci bene ne potremmo fare molti di più. In quanto oggi sono andato di proposito a pranzo da Gimbo vecchi ricordi e mi ha rinnovato e lo ringrazio anticipatamente l'invito ad andare a fare anche quest'anno a novembre la cena sociale del fan club della Val Seriana. Della Val Seriana che coinvolge anche Gazaniga chiaramente considerato che lei abita lì. Gazaniga è nel centro della Val Seriana quindi ma non solo nella Val Seriana di tutta la Bergamasca vorremmo farlo quindi avremmo deciso di fare anche un punto di raccolta per le fidelizzazioni diciamo così al fan club per il tesseramento presso il distributore La Roggia. All'uscita di Gazaniga all'inizio della superstrada L'Aesso che siamo buoni amici e anche lui è cliente dei vecchi ricordi e abbiamo fatto un bel triangolo e quindi contiamo di fare molti tesserati e che tutti poi possono partecipare alla cena che ci sarà a novembre. Certo ma sbaglio lei è stato vicino tempo dietro anche al club dilettantistici? Beh sì è vero tanti tanti anni fa 30 anni fa e più avevamo una società di ciclismo se torniamo dietro in un passo facevamo prima le corse noi due e io lo fregavo in volata anche se lui si ritiene un velocista però dopo ci siamo divertiti e abbiamo fatto delle società siamo stati sponsor del pedale novese a nuova milanese e tante altre cose avevamo gli uniori si direttanti e gli amatori. Vabbè poi è andato a finire io sono venuto sulla Bergamasca e mi è venuta la passione ho rincontrato Paolo Nizzolo ho visto che siamo andati a delle cene così tra amici di leva e abbiamo parlato del nipote che stava allora entrando nei professionisti si è passato un po' di anni contro i cinque anni e poi ultimamente abbiamo deciso di fare questo fan club e a me mi stimola molto la cosa mi piace e quindi continuerò alla grande vorrei battere il fan club di Mugio. Ecco a proposito qui ci rivolgiamo a Paolo Nizzolo quanti sono effettivamente gli aderenti al fans club Nizzolo, Giacomo Nizzolo? Diciamo che negli anni noi abbiamo più di 500 iscritti adesso la festa che abbiamo fatto siamo arrivati a un bel numero subito alla prima serata 195 iscritti solo nella serata di non discorso quindi io mi auguro di arrivare quando siamo a 10.000 ci fermiamo. Nooo Grazie alla vostra serie Bene allora ringraziamo entrambi i nostri ospiti ha parlato prima di 500 sarà dura Ma per me ha esagerato un po' ha fatto così per calcare la mano finché mi impegni di più a me basterebbe farne un centinaio ecco Vedremo ci incontreremo più avanti della stagione per il momento vi ringraziamo per essere intervenuti come ringraziamo il pubblico che ci ha seguito da casa vi auguriamo una buona serata un buon proseguimento del programma di Bergamo TV noi ci vediamo domenica prossima